Il Partito Democratico è un esponente del Partito Democratico. La polemica del momento 5 Stelle parla con... Io sono un grande estimatore di Concidio De Gregorio. Mi auguro che una grande giornalista come lei temperi le parole alla testa del Partito Democratico. Ma lei ha detto l'estofante. Sì, no, no, stiamo parlando di Cantone. Lei ha detto che è un esponente del Partito Democratico. È una notizia. Cantone è stato più volte chiesto di essere... Ma alla testa del Partito Democratico. Non è tesserato, ma fa parte dell'area del Partito Democratico. Io volevo sapere questo. È stato lovinato all'unanimità dal Parlamento.